Si è tenuto nei giorni scorsi presso la sala Sandro Pertini l'incontro promosso dal dottor Massimo Catalucci in collaborazione con la Lega Consumatori Pomezia, incentrato su usura bancaria e anatocismo. L'appuntamento patrocinato dal Comune di Arde è stato teso a spiegare quali siano le insidie che si nascondono nei contratti riguardanti i prodotti finanziari. Il dottor Catalucci ha spiegato innanzitutto l'importanza e gli obiettivi che si prefigge questa giornata informativa. L'obiettivo, come abbiamo detto anche oggi in apertura, è quello di portare l'informazione laddove l'informazione non arriva o laddove l'informazione arriva ma arriva distorta. Viviamo in un momento di grande confusione, di instabilità sociale, culturale, politica e quindi c'è bisogno di portare ai cittadini quelle informazioni che permettono loro di potersi orientare in questa giungla, in questa confusione che c'è. Oggi abbiamo parlato, come abbiamo visto, di tante anomalie che la banca mette in atto, ad esempio, nei contratti di mutu, leasing, conti correnti e via dicendo. Abbiamo spiegato anche quali sono le insidie che si nascondono in questi contratti che difficilmente sono individuabili anche da un tecnico competente, chi è competente in materia bancaria, diritto bancario. E quindi credo che queste informazioni, questi eventi, servano proprio a informare e a educare i cittadini. Immaginiamo ad esempio una famiglia dove si è perso il posto di lavoro e sono costretti magari per aver contratto precedentemente dei modi, dei finanziamenti, dei contratti di conto corrente e via dicendo, e si trovano praticamente a pagare delle spese che non sono dovute. In questo momento, noi nel momento in cui portiamo la giusta informazione e orientiamo la persona a sapere come difendersi da quelli che sono i soprusi che vengono fatti da parte delle banche, stiamo risolvendo il problema. Questo incontro rappresenta la seconda tappa di una serie di eventi informativi che riprenderanno a settembre. Sicuramente a settembre, ottobre, riparteremo con delle altre iniziative, ma naturalmente non ci occuperemo solamente di quelle che sono materie, appunto, Equitalia, usura bancaria, ma cercheremo anche di toccare argomenti come la scuola, la sanità, quindi la sicurezza, che sono tutte tematiche che interessano al cittadino, però cercando di trovare anche delle soluzioni, portando praticamente delle progettazioni che possono quindi andare incontro al cittadino stesso e migliorare quindi la qualità anche di vita dei cittadini. Il presidente della Lega Consumatori, Dario Ferraro, si è poi espresso riguardo il decreto salvabanche. Io ho sentito doveroso fare riferimento al decreto salvabanche perché in sostanza la legge va contro gli interessi dei cittadini e dei consumatori perché si dà un potere enorme alle banche nel togliere quel filtro di tutela che c'era prima che passava tramite giudice che poteva tutelare il consumatore, la parte più debole in sostanza, tra le parti e oggi con il decreto salvabanche una banca può aggredire i beni con i pignolamenti quindi poi con le aste giudiziarie senza aspettare un provvedimento del giudice e quindi in sostanza, io penso poi ci saranno le persone addette, ci sono principi di incostituzionalità perché la nostra carta costituzionale prevede che ci sia il filtro che sia tutelata la parte più debole. La Lega Consumatori Pomezia mette a disposizione dei cittadini lo sportello basta debiti presso il quale si possono far analizzare i finanziamenti e qualora si presentassero le condizioni necessarie si può avviare un procedimento extra giudiziale prima ed eventualmente assistere legalmente i cittadini poi. Noi riteniamo che essere informati è il modo migliore per difendersi se si è informati, se si sa, ci si può difendere quindi riteniamo un'informazione e eventi come questi di fondamentale importanza perché la gente non sa, la gente non è a conoscenza delle leggi e quindi tante volte in situazioni che loro ritengono insommontabili o ritengono di non trovare soluzioni invece in sostanza in realtà ci sono e le leggi ci sono. In modo particolare per esempio la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento delle famiglie che noi trattiamo nel nostro spettorello di Pomezia la cosiddetta salvasuicidi c'è stata gente purtroppo, l'abbiamo letto alla cronica sui giornali ci sono state persone che purtroppo si sono tolte la vita perché non riuscivano più ad ottemperare non sapevano più come uscire fuori dalla montagna di debiti. Relatore dell'incontro, l'avvocato Franco Muratori esperto in diritto tributario e bancario ha informato i cittadini riguardo il tasso di soglia altro il quale si può parlare di usura. Usura bancaria si verifica quando viene superata la soglia indicata dalla legge purtroppo non è semplice capire quando ciò avviene perché non è il semplice tasso nominale che deve superare la soglia di usura ma è tutto l'insieme delle spese, delle commissioni delle remunerazioni quindi è un calcolo difficile che non tutti sono in grado di fare. L'avvocato Muratori ha concluso il suo intervento consigliando di far analizzare da esperti i contratti finanziari qualora si avvertisse la sensazione di essere vittime di usura in modo da far valere i propri diritti. Le conseguenze sono quelle previste dall'articolo 1815 del Cotice Civile che prevede una punizione per l'usuraio e il contratto diventa totalmente gratuito. Tutti gli interessi, commissioni e spese devono essere istituiti.